Ciacchierpigna 2018, la seconda edizione, un grande evento di promozione dei brand territoriali irpini, una manifestazione organizzata dai produttori per i produttori e quindi dal Consorzio di tutela. La velletà di Ciacchierpigna è quella di mettere al centro dell'attenzione non i brand aziendali ma i brand territoriali, quindi i brand denominazionali, Greco di Tufo, Fiano di Avellino, Irpinia, Falanghina e Taurasi. La velletà è quella di portare col tempo e di realizzare le condizioni perché questa manifestazione possa crescere ancora di più per portare l'attenzione della stampa internazionale qui in Irpinia.